Ottava edizione per il Bufala Fest, la fiera gastronomica dedicata ai cibi della filiera bufalina che si svolge in piazza Municipio. In programma degustazioni, vendita di prodotti, incontri e dibattiti con esperti e addetti del settore alimentare. Quando ci proponiamo come filiera bufalina qualcuno può pensare che noi parliamo di mozzarella, ma invece no, noi parliamo dell'intera filiera bufalina, ossia tutto quello che è la carne, i salumi, la ricotta e tutti gli altri prodotti. Noi abbiamo 31 espositori che vengono da Roma, dalla Puglia, quest'anno abbiamo persone che vengono da Padova, persone che vengono da Parma, per noi è un orgoglio vedere che le persone vengono a Napoli 5 giorni a confrontarsi con la filiera bufalina. Nell'Arena del Gusto ogni sera sono previste tre dimostrazioni di cucina con un gruppo di cuochi, chef, pasticceri e panificatori. L'Arena del Gusto è uno spazio interattivo, un'interazione che avviene tra le aziende e gli stessi chef, pasticceri, panificatori e ospiti che entrano a far parte dell'Arena del Gusto. Ogni sera tre show, ognuno in cadenza di un'ora, dove anche il gruppo chef o il gruppo panificatori interagiranno con invece il pubblico presente all'Arena del Gusto. Un grande successo l'anno scorso, mi auguro che anche quest'anno questa formula, quale la formula del Bufala Fest, possa essere vincente. La filiera bufalina è presente in tutti gli show per tutti e cinque i giorni. D'altronde il cuore di Bufala Fest è la filiera bufalina con la mozzarella di bufala e la carne di bufala e bufalo. Le parole tematiche di questa edizione sono diversità e inclusione, che suggeriscono di aprire lo sguardo anche su ingredienti e pratiche culinarie, poco diffusi alle nostre latitudini. Il primo show che abbiamo, Ciccio Vitiello, un giovane maestro pizzaiolo, che lavorerà la canapa, perciò un alimento non così usuale. E questo a noi dà modo di poter dimostrare che non si vive solo di alimenti basici, ma anche dobbiamo iniziare a pensare che la diversificazione deve entrare in cucina e deve dare modo a questi giovani chef, giovani pizzaioli, di poter ingrandire, allargare la loro cerchia di conoscenza e di virtù. Organizzato dall'Associazione Giardino delle Idee e da Crea Eventi, in collaborazione col Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e con la sede campana della Confederazione Italiana Agricoltori, il Bufala Fest ha fra gli altri il patrocinio del Comune di Napoli. Quest'anno Bufala Fest va oltre perché ha voluto dedicare questa edizione alla diversità alimentare. Quindi si apre a diversi modi di nutrirsi e a tante varietà di cibo e si apre anche a nuove culture, alle culture che arrivano anche ben oltre i confini della nostra città. Per chi arriva da fuori città e attiva una convenzione con ANM è col parcheggio Brin. Abbiamo fatto il parking, le persone hanno la possibilità di parcheggiare al Brin, il parcheggio Brin, e questo invitiamo tutte le persone della provincia di Napoli che vengono e con 5 euro lasciano la macchina al Brin e c'è il tram che li accompagna direttamente fuori al villaggio.